Ben trovati ai telespettatori di Cilento Channel e benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato alla rubrica nutrizione e benessere che ormai va in onda da più di tre anni sul nostro canale per questa edizione insomma abbiamo pensato insieme al dottor Andrea Ricci che è biologo e nutrizionista e cura la rubrica di parlare anche dell'alimentazione nell'antica Roma e quindi come mangiavano i nostri avi e allora ascoltiamo dal tuo racconto un po' come era caratterizzata la loro dieta è interessante anche sapere questo. Esatto oggi inauguriamo un po' una rubrica nella rubrica quindi anche per capire quali sono le differenze tra l'alimentazione appunto dei nostri avi e quella dei giorni di oggi allora durante tutta la lunga storia romana ovviamente ci sono varie fasi possiamo partire dall'inizio in cui coinvolge anche le altre popolazioni italiche in cui l'alimentazione era soprattutto rivolta a delle polente di miglio, di farro accompagnato magari con delle verdure, con dei formaggi più raramente con della selvaggino, degli animali di allevamento poi ovviamente con l'espansione dell'impero romano quindi i contatti anche con i greci, la cultura dell'olio, della vite ma anche soprattutto l'espansione verso l'oriente quindi l'alimentazione si arricchisce anche di altri ingredienti soprattutto con l'oriente e di molte spezie i romani dividevano la giornata in tre pasti principali quindi venivano chiamati entaculum, prandium e cena ovviamente poi ci sono delle differenze a seconda della classe sociale delle possibilità economiche dei vari strati della popolazione però in linea di massimo possiamo dire che il pasto principale o comunque quello a cui i romani davano più importanza era sicuramente quello della cena mentre gli altri due venivano consumati in maniera molto veloce, molto frugale anche senza apparecchiare o in piedi partiamo dalla colazione, quindi gli entaculum in cui le classi meno abbienti si accontentavano magari di acqua con del pane o al massimo una focaccia in tinta nel latte o nel vino mentre invece per i più ricchi era una colazione molto più diciamo all'americana insomma quindi di solito partivano anche con dei rimasugli della cena precedente o comunque con dei formaggi, della frutta secca, il latte, le focacce, il pane appunto nel vino e c'erano anche per diciamo della curiosità al mattino anche delle pastiglie aromatizzate per l'alito oppure utilizzavano per esempio degli stuzzicadenti che avevano una doppia funzione da un lato appunto appunto come stuzzicadenti dall'altro a cucchiaino per pulire le orecchie Veniamo invece al pranzo, appunto il pranzo, che veniva consumato quasi sempre fuori casa questo un po' per gli impegni lavorativi un po' perché la maggior parte dei romani ovviamente viveva in degli agglomerati popolari quindi le cosiddette insule in cui non c'era neanche la cucina se non una piccola cucina in comune e consumavano fuori acquistando qualcosa da degli ambulanti oppure recandosi nelle popine cioè delle osterie in cui consumavano dei secondi alla griglia soprattutto quindi pesce o selvaggine alla griglia oppure accompagnate con delle zuppe o delle polente o dei formaggi sempre e quasi sempre con una bevanda chiamata piperatum che era a base appunto di vino, di miele e di spezia per quanto riguarda invece la cena che era più o meno allora ottava o nona andiamo un po' oltre quella che è l'immagine classica appunto dei grandi banchetti con i romani sdraiati attorno perché questa era comunque un'eccezione o comunque era una cosa riservata a pochi aveva uno scopo anche soprattutto più sociale, relazionale più che alimentare in sé la maggior parte dei romani però soprattutto chi aveva una maggiore possibilità economica dava appunto maggiore spazio alla cena che era suddivisa in tre portate principali quindi c'era un agustazio che possiamo chiamarlo il nostro antipasto di oggi a base di funghi, olive, molluschi, crostacei un primo piatto chiamato prima mensa in cui erano appunto delle carni prima bollite e poi arrostite oppure si concludeva con un secondo piatto appunto la seconda mensa che possiamo considerare il nostro dessert che era a base di frutta fresca quindi fichi, melograni, mele oppure frutta secca o dei dolci a base sempre di miele diciamo che per la vita di oggi sarebbero inattuabili queste abitudini alimentari però ci sono sicuramente delle cose in comune come la scelta degli ingredienti che bene o male sono gli stessi però diciamo che oggi non riusciremmo a mangiare nello stesso modo in cui mangiavano i romani che tendevano molto ad alternare piatti dolci e salati e ad usare molto delle spezie in effetti usavano molto una salsa chiamata garum che era a base di pesci e di interiore di pesci sotto sale e di erbe aromatiche ne facevano davvero un gran consumo che oggi noi non riusciremmo a fare che comunque ritroviamo solo in alcuni piatti orientali o medio orientali un altro punto in comune invece la predilizione per gli alimenti morbidi in effetti i romani anche quando arrostivano le carni tendevano sempre prima a bollirle in modo da renderle più morbide e questa è anche una tendenza che abbiamo noi oggi appunto quella di prediligere i cibi morbidi rispetto a quelli più duri o più croccanti bene, un racconto sicuramente interessante che speriamo anche i nostri telespettatori avranno gradito ma noi non ci fermeremo insomma alle differenze che ci sono tra la nostra alimentazione e quella appunto degli antichi romani ma continueremo magari con qualche altra intervista dedicata anche magari al mantenimento dei cibi insomma come si faceva un tempo e come è cambiato insomma quindi oggi come si fa a conservare un alimento bene, grazie dottore, grazie ai nostri telespettatori l'appuntamento dunque torna la prossima settimana sempre su Cilento Channel con la rubrica nutrizione e benessere